Musica Oggi festa della mamma, in Italia la ricorrenza si lega alla tradizione cattolica e cade a maggio, mese dedicato alla Madonna, poco da festeggiare per le madri lucane. Gheppe occupazionale e retributivo fanno della Basilicata una regione non a misura di mamme. Amministrative di giugno, presentate le liste a potenza e corsa, 5 lungo l'elenco degli aspiranti alla fascia tricolore, 20 candidati nel materano, 95 negli altri 42 centri del potentino, resta bassa la percentuale delle donne in corsa. Il bovino podolico eccellenza della zootecnia lucana, apprezzato anche oltre i confini regionali, lo dimostrano i numeri della 28esima edizione dell'asta dei Torelli. Campionato di Serie C di calcio in primo piano nella pagina sportiva, il Picerno chiude 0-0 la gara col Taranto e il pari non basta a superare il turno dei play-off. Oggi in campo il Potenza di scena a Teramo per l'andata dei play-out contro il Monte Rosi. Successo ieri sera per la prima del musical dedicato al patrono di Potenza San Gerardo, Pienone al Teatro Don Bosco, e si replica questa sera 70 gli attori in scena per Gerardo della Porta, il Santo dell'Amore. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori dallo studio della Nuova Tg, per i ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Lo ascoltavamo dei titoli. Oggi ricorre la festa della mamma, una festività antichissima che risale al mondo greco, quando si festeggiavano le mamme durante le feste legate alle divinità femminili. In Italia la ricorrenza si lega alla tradizione cattolica e cade a maggio, mese dedicato alla Madonna. Poco da festeggiare per le madri e donne lucane. Gap occupazionale e retributivo fanno della Basilicata una regione non a misura di mamme. Sentiamo. L'Italia non è un paese per mamme, la Basilicata non fa la differenza. La nostra regione si piazza all'ultimo posto della classifica delle cosiddette equilibriste, silata da Save the Children. Sono ancora troppe le donne che non riescono a conciliare impegni lavorativi e familiari. Basti pensare che una lavoratrice su 5 esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre e che il 72,8% delle convalide e delle dimissioni dei neogenitori riguarda le donne. E le condizioni per chi continua a dimenarsi tra casa e lavoro restano del tutto sfavorevoli. Il gap salariale uomo-donna in Basilicata infatti in media è del 30,2%, 26.227 euro l'anno per un lavoratore contro i 18.305 euro spettanti alle lavoratrici. Sono dati di uno studio curato dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Will. Il gap occupazionale uomo-donna da noi è pari al 17,9%. Se si analizzano le retribuzioni in base alle tipologie contrattuali, la differenza delle donne è presente in ogni modalità di contratto. Ciò sta a indicare che a parità di contratto di assunzione, le donne vedono mediamente una retribuzione media annua più bassa dei colleghi. Divario occupazionale, il più alto di tutta l'Unione Europea, e divario retributivo che nel settore privato arriva a superare il 30%, rappresentano le due forti disuguaglianze. La scarsa presenza di asili nido pubblici, il loro costo elevato, ma anche l'inesistenza del tempo pieno nelle scuole in ampie aree del paese e di servizi pubblici durante i periodi di vacanze scolastiche sono alcuni degli elementi che ci fanno dire che l'Italia, nonostante una certa narrazione che vorrebbe affermare il contrario, non è un paese per genitori. E siccome la genitorialità è ancora oggi declinata culturalmente di fatto al femminile, non è un paese per mamme. Tra i tanti fattori ad incidere anche il part-time, il rapporto con le occupate in full-time è uno a uno, mentre per gli uomini diminuisce drasticamente a uno a quattro. Nella ricerca emerge un altro dato significativo, c'è chi un lavoro non lo cerca neanche più. Tra gli inattivi, quelli che dichiarano di esserlo per motivi familiari, sono 3 milioni e 478 mila, di questi il 95,6% sono donne. Ottavia, una di noi, libera basilicata a 49 anni dalla scomparsa, ricorda oggi la piccola Ottavia De Luise, scomparsa il 12 maggio del 1975, l'ultimo giorno in cui la 12enne venne vista a Montemurro il suo paese. Una storia dimenticata per troppo tempo, almeno fino al 2010, quando con il ritrovamento a marzo di quell'anno dei resti della povera Elisa Claps nel sottotetto della chiesa della Trinità Potenza, riaccesero riflettori anche sulla storia di Ottavia, mentre il percorso per Elisa, pur lento e faticoso, ha saputo accendere una luce di verità e giustizia, evidenze in una nota libera, per Ottavia appare sempre più difficile, tra silenzi e negligenze, l'oblio, la trascuratezza che hanno sempre caratterizzato la storia di Ottavia, fin dalla sua scomparsa. Libera si stringe alla famiglia della ragazzina e a quanti, viene riportato nel comunicato, non si rassegnano e vogliono che almeno il nome di Ottavia, la sua storia e i suoi sogni interrotti, non ritornino nel buio. Libera ha intitolato il presidio di Libera di Valdagri alla piccola Ottavia, cercando di mantenere vivo il suo ricordo attraverso la promozione di iniziative. Un centauro è stato trasferito in eleambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza con un codice rosso dopo una caduta in moto che si è verificata all'altezza della frazione San Donato nel territorio del comune di Anzi, sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri, per i rilievi del caso. Amministrative di giugno, sarà corsa 5 a Potenza, unico comune con più di 15.000 abitanti al voto ed in cui potrebbe tenersi anche il ballottaggio, 490 invece gli aspiranti consiglieri comunali, 32 in totale i seggi a disposizione. Celestino Benedetto. Cinque candidati sindaco con una sola donna, 17 liste totali, 490 aspiranti consiglieri. E' scaduto alle 12 di ieri il termine per la presentazione delle liste delle amministrative dell'8 e 9 giugno. Nel capoluogo unico comune con più di 15.000 abitanti dove è previsto il doppio turno ed in cui è ammesso il voto disgiunto sono cinque i candidati a succedere a Mario Guarente. Francesco Fanelli, candidato del centrodestra, sostenuto da sette liste, Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia, Potenza Civica Fanelli sindaco, Noi Moderati, Insieme per Potenza, Amiamo Potenza e Orgoglio Lucano, Vincenzo Telesca per il centro-sinistra, sostenuto da cinque liste, Uniamoci per Potenza, Telesca sindaco, Insieme per Potenza, Basilicata Casa Comune, Potenza Prima, La Potenza dei Cittadini, Potenza Democratica, quindi Pierluigi Smaldone, sostenuto da tre liste, Potenza Ritorna, Città Nuova e Movimento 5 Stelle, Francesco Giuzio, La Basilicata Possibile, Maria Grazia Marino, Forza del Popolo. Tra gli aspiranti alla carica di consigliere comunale, molti sono uscenti, ex amministratori, ma anche tanta società civile. Alle liste collegate al candidato sindaco, risultato vincitore, verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale. Si andranno ad eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco. Saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. E negli altri 51 comuni al voto diverse le sfide affascinanti, ben 4 in corsa per la fascia di colore Abrienza e Maratè, ma facciamo il punto con Michelangelo Russo. 20 candidati nei 10 comuni del Materano, più altri 95 negli altri 42 centri del Potentino. La lista degli aspiranti alla fascia tricolore non è mai stata così lunga. Con la presentazione avvenuta ieri, si apre ufficialmente la campagna elettoral nei 52 comuni chiamati al voto prima della rush finale dell'8 e del 9 giugno. A Venosa, comune con oltre 11.000 residenti, sarà sfida a tre. Da un lato la sindaca uscente Marianna Giovanni, componente storica del Movimento 5 Stelle, sui sfidanti l'ex presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, e Gianteo Tamburriello, che correrà per il centrodestra. Grande bagarre anche a Brienza, dove il sindaco uscente, Antonio Giancristiano, sarà sfidato dall'ex sindaco Donato Di Stefano, che alle ultime regionali era candidato nel PD, Cataldo Lopardo, e Raffaele Collazzo. A Maratea, Daniele Stoppelli se la vedrà con Cesare Albanese, Francesco Ambrosio e Antonio Brando. Nel Materano, occhi puntati su Scanzano, dove si è riproposto Pasquale Cariello, e dove questa volta c'è soltanto uno sfidante, Nicola Mangialardi, per il centro-sinistra. Interessati dalla tornata, gli unici due comuni sotto i 300 abitanti, Ciriliano e San Paolo Albanese. È proprio a Ciriliano, piccolissimo paese, con circa 280 abitanti, in provincia di Matera, i due candidati alla carica di sindaco hanno lo stesso nome, lo stesso cognome, lo stesso anno di nascita, il 1966. Sono cugini, figli di due fratelli, con sette mesi di differenza di età. Uno è dirigente del Parco Gallipoli, cognato, l'altro è un carabiniere in pensione. C'è quindi un Marco De Lorenzo, per uniti per Ciriliano, e un altro Marco De Lorenzo, per la lista Costruire la rinascita. Infine le altre curiosità sfideranno direttamente il quorum. Carmine Nigro a Gorgoglione, Maria Filomena Grazia Dei ad Anzi, Pasquale Caffio a Banzi e Pasquale Montano a Guardia Perticara. L'ospedale San Giovanni di Dio di Melfi potenzia la rete di assistenza a cura e cura con particolare attenzione, fa sapere il DG dell'azienda ospedaliera San Carlo Giuseppe Spera, alle esigenze dei pazienti fragili, al fine di assicurare una più serena terza età. Attivato nell'unità operativa di medicina generale e pneumologia dell'ospedale di Melfi, diretta dal dottore Edoardo Pennacchio, l'ambulatorio di geriatria, coordinato dalla dottoressa Claretta del Prete, l'azione di potenziamento della rete ambulatoriale negli ospedali dell'Aore frutto di una precisa programmazione aziendale di evidenzia spera che mira offrire servizi e prestazioni nelle diverse branche mediche, in linea con la recente apertura di molte altre attività ambulatoriali. A Matera, invece, a rischio l'assistenza agli anziani, i pazienti e i sindacati scongiurano la chiusura del centro geriatrico. La direzione ha comunicato di aver posticipato di 15 giorni l'efficacia della procedura di licenziamento avviata lo scorso 10 aprile. Ne dà notizia il segretario generale della Cisla FP, Basilicata Giuseppe Bollettino, che nei giorni scorsi aveva auspicato una proroga in vista della convocazione di un tavolo tecnico con Regione Basilicata e Azienda Sanitaria di Matera. Prendiamo atto del gesto di responsabilità e siamo fiduciosi che nel frattempo venga convocato il tavolo tecnico da noi più volte sollecitato per individuare, conclude Bollettino, una soluzione in grado di salvaguardare i posti di lavoro e la continuità di un servizio essenziale per la città dei Sassi. Il bovino podolico è una delle eccellenze della Basilicata apprezzato anche oltre i confini regionali. Lo dimostrano i numeri della 28esima edizione dell'Asta dei Torelli con numerosi allevatori giunti da fuori regione per l'acquisto dei pregiati capi al centro genetico di Laurensana. Lucia Pietrafesa. Il bovino podolico è una delle razze più apprezzate e gli allevatori non solo lucani sono pronti a spendere diverse migliaia di euro a capo. Anche quest'anno numerosi da Basilicata, Calabria, Puglia e Campania hanno preso parte alla 28esima Asta dei Torelli organizzata come da tradizione dall'Arabasilicata e dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini a Laurenzana. Una ventina i capi battuti all'asta a dimostrazione del fatto commenta il presidente dell'Ara Palmino Ferramosca che il centro genetico lucano gode di ottima salute ed è apprezzato dagli allevatori per il miglioramento del benessere degli animali. I Torelli venduti hanno raggiunto prezzi interessanti con il top price di 4.000 euro per un capo acquistato da un allevatore di potenza. Ogni anno a Laurenzana viene messo a disposizione delle aziende il meglio della selezione effettuata presso il centro genetico con le valutazioni dei migliori riproduttori maschi dei bovini di razza podolica. Una razza autoctona italiana, gioiello di biodiversità delle regioni del sud Italia che deve essere salvaguardata e migliorata nelle sue caratteristiche tramite miglioramento genetico ma anche attraverso il sostegno pubblico che, sottolinea il direttore dell'Anabic Stefano Pignani permetta di compensare ciò che il mercato ancora non riconosce adeguatamente a questa pregiata razza. Siamo alla pagina sportiva, calcio serie C il Picerno chiude 0-0 la gara col Taranto ma il pari non basta per superare il secondo turno dei play-off i Lucani costretti a giocare in 10 per 70 minuti per l'espulsione di Murano decisa dal bar Sentiamo Luigi Santopietro Fuori dai play-off ma a testa alta e con orgoglio illimitato il Picerno impatta a retti inviolata allo Iacovone contro il Taranto e viene eliminato dalla corsa alla Serie B per il peggior piazzamento in campionato i Lucani non riescono ad accedere alla fase nazionale dei play-off escono dalla competizione senza mai perdere ma con la consapevolezza che il percorso di crescita prosegue Mister Longo ritrova Murano ma sarà proprio il bomber con la complicità del VAR a tradire i Melandrini Il Taranto parte bene con una conclusione di Ladinetti deviata sopra la traversa Il Picerno risponde con una combinazione di D'Agostino e Ceccarelli che riesce solo a scaldare i guanti di Vannucchi Il fattaccio che caratterizzerà l'intero match poco prima del ventesimo Murano si libera della marcatura di Miceli con eccessiva foga colpendo al volto il difensore Tarantino Interviene il VAR che chiede al direttore di gara la revisione dell'azione Dopo il replay nessun dubbio scatta il cartellino rosso per Murano che lascia un Picerno bisognoso di una vittoria in dieci Il Taranto ci prova su punizione con Matera ma per il Picerno inizia una partita di cuore e orgoglio Dopo la punizione di Ceccarelli e D'Agostino ci prova inrovesciata ma la sfera si spegne tra le braccia di Vannucchi Capuano butta dentro la coppia d'attacco Simeri Canute ed è proprio l'attaccante senegalese a centrare un palo clamoroso Il Taranto spinge sull'acceleratore e costringe Pitarresi a un ingenuo fallo su Zonta e in area che vale il calcio di rigore per gli Ionici Dal dischietto Canute angola troppo il tiro e il pallone termina fuori Il Picerno resta a galla I Lucani restano compatti ed equilibrati e quando possono pungono Qui la conclusione di guerra è molto imprecisa Ancora Canute a seminare panico in area lucana Il diagonale è forte e preciso ma Summa è un gatto e devia in calcio d'angolo Ultima opportunità per il Taranto con Ferrara ma ancora una volta Summa è mostruoso e salva il Picerno dal KO Per la qualificazione però non c'è più nulla da fare Il match si chiude sullo 0-0 Il Picerno saluta la competizione a testa alta Il Taranto vola al primo turno nazionale dei play-off In campo oggi il Potenza che alle 18 sarà di scena al Bonolis di Teramo per il turno di andata dei play-out contro il Monte Rosi Formazione praticamente al completo per mister De Giorgio che parte alla volta dell'Abruzzo con la volontà di fare risultato Sentiamo Salvatore Colucci Il Bonolis di Teramo è il palcoscenico della gara di andata del play-out tra Monte Rosi e Potenza La cittadina abruzzese per 90 minuti si colorerà di rosso-blu per l'esodo degli oltre 850 tifosi del Leone Rampante partiti al seguito del Potenza per sostenere e non far mancare il supporto alla formazione di mister De Giorgio per primo alto dello spareggio salvezza Due settimane in crescendo per il rosso-blu passando dalla paura per essere scivolata in basso fino ad arrivare alla reazione scaturita dopo il pacifico confronto con il tifo organizzato subito dopo la consapevolezza di dover passare dai play-out Da qui è arrivata una carica enorme alla squadra che ha sostenuto le due settimane di preparazione verso il match di Teramo con intensità ed una ritrovata fiducia Intanto prima della partenza verso Teramo il tifo organizzato ha voluto caricare ancora una volta la squadra partecipando alla rifinitura di ieri mattina con cori di incitamento e colorando la curva ovest di rosso-blu Ha fisso anche uno striscione ben in vista con una semplice parola che racchiude l'obiettivo da raggiungere vincere La parola però alle 18 passa al campo che sarà l'unico giudice Ci sono stati 15 giorni dove abbiamo potuto lavorare molto bene abbiamo preparato la partita molto bene in base a quello che abbiamo visto del Monterosi una squadra molto esperta, molto fisica a livello mentale sono molto contento ma credo che ci sia stata la svolta nel momento in cui la squadra ha avuto il confronto con i tifosi abbiamo avuto un confronto molto importante, molto forte e da quel giorno ho visto che a livello caratteriale, a livello mentale la squadra ha ripreso una strada molto molto importante perché ho visto convinzione in questi 15 giorni con la giusta tranquillità però questa unione con la città, con la tifoseria ha dato senso di responsabilità alla squadra ma nello stesso tempo ha ricreato quella voglia di ripartire perché credo che il senso di responsabilità questa volta della squadra sia stato ricepito in maniera molto più aggressiva come se in loro fosse scattato una pretesa di reazione e di voglia di raggiungere questo obiettivo queste sono partite diverse non sono partite classiche di campionate sono partite dove ti giochi il tutto per tutto ti giochi una carriera, ti giochi una stagione sono partite fondamentali noi dobbiamo ragionare come due partite non dobbiamo ragionare sui 90 minuti quindi calcolo di andare là per pareggiare o fare fase difensiva non esiste noi dobbiamo andare a Monterosi per vincere con quella cattiveria, con quella voglia perché noi dobbiamo arrivare alla fine delle due partite dove dobbiamo dire abbiamo dato tutto quello che avevamo da dare il nostro obiettivo è dare tutto lo dobbiamo alla piazza, lo dobbiamo dare alla società lo dobbiamo ai tifosi quindi noi dobbiamo andare là con voglia di vincere e dobbiamo andare là per vincere successo ieri sera per la prima del musical inedito dedicato al patrono della città di Potenza San Gerardo della Porta pienone al teatro Don Bosco di Potenza e si replica questa sera sempre nel capoluogo di regione Gerardo della Porta, il santo dell'amore ha visto esibirsi una settantina di attori inedite le musiche, le coreografie lo spettacolo parte dalla documentazione storica disponibile sulla figura del santo che delinea un quadro ben definito di Gerardo della Porta e delle innovazioni di cui fu promotore in campo sociale in una potenza moralmente allo sbando nel musical la figura di San Gerardo ridona speranza converte i cuori e insegna il rispetto per la donna percorrendo quello che sarà l'amor cortese l'idea è nata da Michela Console direttrice del centro danza Metamorfosi di Potenza che ha organizzato lo spettacolo in collaborazione con Incanto sceneggiatura, musica e testi sono affidati a Rocco Messina la regia è di Tonino Centola ed è tutto per questa edizione noi ci rivediamo alle 20 grazie per l'ascolto arrivederci e ancora una buona domenica